Due ergastoli a fronte dei cinque richiesti dalla procura antimafia di Reggio Calabria, oltre un secolo di reclusione e tre assoluzioni, e il verdetto emesso dalla Corte d'Assise di Locri nei confronti degli undici imputati nel processo sulla seconda faida dei boschi, la guerra di Indrangheta consumatasi al confine tra le province di Vibbo, Reggio e Catanzaro tra il 2008 e il 2011. Centrale nel processo l'omicidio del boss dei viperari delle serre Damiano Vallelunga, assassinato nel settembre del 2009 davanti al santuario di Riace. La Corte, presieduta dal giudice Bruno Muscolo, ha condannato al fine penamai il Mamma Santissima di Guardavalle Vincenzo Gallace e Giuseppe Cosimo Leuzzi, boss di Stignano, assieme al defunto Andrea Ruga, ritenuti i mandanti del delitto Vallelunga. Assolti invece Luca Spatari, Antonio Leuzzi e Bruno Vallelonga. Le altre secondanne sono state inflitte al pentito Antonino Belnome, 15 anni, a Salvatore Papaleo, 20 anni, ad Andrea Sottira, 26 anni, a Cosimo Spatari, 20 anni e 6 mesi, ad Agostino Vallelunga, 20 anni e a Roberto Umbaca, 17 anni e 6 mesi.